Sinceramente non volevamo avere molte aspettative sul progetto, quindi essere arrivati addirittura a farne una mostra e devo dire che sta andando bene, insomma, successore. Tutto lo staff, dalle modelle all'equip che poi ha curato trucco, parrucco, luci, è composto da sole mamme? Sì, sono le mamme, ripeto, che fanno parte del progetto e il progetto che ci tengo a dire è a costo completamente zero, cioè ognuna di noi ha messo a disposizione le proprie competenze, le proprie capacità e ripeto, è nato il progetto, io ho messo a disposizione la mia fotografia, ci sono le mamme che hanno messo a disposizione il trucco, il parrucco, ci sono mamme che mi aiutano con la gestione della pagina Facebook, anzi, in realtà la gestiscono loro perché su della pagina io me ne occupo veramente poco. Qual è il messaggio che volete lanciare con questo progetto? Il messaggio che vogliamo lanciare è che essere mamma non significa non essere anche una donna, quindi non, cioè l'essere mamma non è sacrificio, noi siamo mamme ma siamo soprattutto donne.